La ricetta delle patate schiacciate era diventata virale lo scorso anno quest'anno ho scoperto da poco la versione al pomodoro e devo dire che è buonissima andiamo a vedere insieme come si fa lava le patate, tagliale a metà o in quarta e seconda della dimensione io le cuocio in microonde, quindi metto mezzo bicchiere d'acqua copro con pellicola e cuocio alla massima potenza per circa 18 minuti naturalmente puoi cuocerle in pentola per mezz'ora questo è il risultato in microonde prepara una salsa, metti passata di pomodoro, sale, erba cipollina e l'olio extravergine di oliva mi raccomando non lesinare mescola bene fino a che tutti gli ingredienti non saranno completamente amalgamati trasferisci le patate sulla leccarda del forno schiacciale con un bicchiere o con un batticarne aggiungi la salsa di pomodoro preparata in precedenza e mescola, ti consiglio di farlo con le mani continua fino a che le patate non saranno completamente ricoperte di salsa cuoci le patate in forno statico 220 gradi per circa 30 minuti ed eccole qui pronte condiscile ancora con un po' di erba cipollina tritata e un po' d'olio extravergine di oliva crudo e buon appetito grazie a tutti